Sono Celestino Rocco, dirigente scolastico del secondo circolo di Eboli. La gara oggi non è andata male, abbiamo avuto qualche problemino perché qualche robot si è scontrato con qualche altro un po' a causa anche della superficie che non era molto liscia. Speriamo che vadano bene dopo domani, alla finale.